Buonasera, io sono Elena Brisighelle e mi occupo della comunicazione per la Casa Vinicola Sartori. La Casa Vinicola Sartori si trova nella zona Valpolicella Classica, nello specifico nella vallata di Negrar e da più di cento anni produce vini della zona. A noi abbiamo due Amaroni, questo che è il base, che è l'Amarone Reius e poi abbiamo il Corte Bra. L'uvaggio è un 50% di corvina, un 30% di corvinone, un 15% di rondinelle e un 5% di cabernet. L'Amarone Reius, che è il nostro base, fa prettamente botte medio-grande, fa un passaggio in cemento per la fermentazione manolattica e poi tre anni di botte medio-grande, di rovere. Mentre l'Amarone Corte Bra è un Amarone un po' più moderno, se si può dire, e fa barrique e botte piccola. L'Amarone Reius ne produciamo all'incirca 45.000 bottiglie, mentre per l'Amarone Corte Bra comunque sulle 50.000. Portiamo principalmente all'estero ed è circa un 70% di vino che va all'estero e rimanente in Italia. Il nostro mercato principale è l'Inghilterra, la Germania, comunque in generale tutta l'Europa, l'America e poi stiamo cominciando nei paesi emergenti come l'India e l'Australia.